Mi ha chiamato perché vicino al suo paese, sempre in provincia di Vicenza, a Darsiero, è stato condannato un Robi Vecchi, cioè non un grande imprenditore, uno che per vivere vendeva ferri vecchi, invalido civile, di 63 anni, oggi disoccupato, con la mamma a carico, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di galera perché ha ferito, non ha ucciso, ma ha ferito i due nomadi che erano entrati nel suo magazzino armati di spranga e oltre a 5 anni di galera è disperato perché dovrebbe risarcire con 135 mila euro la famiglia dei due nomadi feriti. Ora dobbiamo riportare normalità in Umbria e in Italia perché non se ne può più.